C'è anche Bruno SRL con sede a Grotta Minarda tra le aziende selezionate in otto regioni d'Italia inserite nel programma di Elite, l'iniziativa di Borsa Italiana che permetterà alle aziende, con un fatturato aggregato di circa 3 miliardi di euro, di accedere ad una piattaforma di strumenti studiati per accelerare la crescita nell'ottica di industria 4.0. La selezione ha alla fine puntato sulle aziende che presentano un alto potenziale di crescita e tra queste appunto Bruno Generators. Le 21 aziende scelte che in tutto occupano 11 mila dipendenti appartengono a diversi settori industriali. Si va dalla moda alla chimica e poi la meccanica, l'automotive, il food. La presenza dell'azienda erpina, eccellenza italiana e affermatissima all'estero con sedi in Gran Bretagna, Germania e Singapore rappresenta certamente un motivo di orgoglio per la provincia ma più complessivamente per l'intera regione, essendo l'unica realtà produttiva selezionata in campagna e nel meridione. Elite UbiBanca Lounge permetterà alle imprese di intraprendere un percorso dedicato che prevede strumenti di finanziamento, relazioni con operatori del mercato, dei capitali, formazione specifica per guidare i cambiamenti organizzativi e di governance necessari ad affrontare i mercati internazionali. La ricerca delle aziende inserite nella Elite UbiBanca Lounge è avvenuta attraverso la stretta collaborazione fra le sette macro aree territoriali, la divisione corporate and investment banking di UbiBanca e le associazioni territoriali di Confindustria. Il lancio dell'Elite UbiBanca Lounge, attivata con la collaborazione di Confindustria, secondo il presidente Vincenzo Boccia, rappresenta un altro importante passo nel percorso di evoluzione e innovazione del rapporto tra banche e imprese, una condizione imprescindibile per un sistema paese più forte e competitivo, in grado di cogliere le sfide internazionali.